Oh, yes! Stiamo scappando da questa arena della tortura! No, no, no! No, queste cose non le voglio! No, che succede? Cosa? Ma che razza di... Cosa? Cosa sta a succedere di questo posto? Ma non era un'arena questa prima! Oh, guys, a tutti i soliti giochi e benvenuti in Clone Drone in the Danger Zone! Oggi siamo qui su questo nuovo gioco appena uscito. È una veramente una figata. Consiste in un'arena in cui dovremmo combattere contro orde e orde di robot, ma sarà veramente, veramente figo, perché è fatto a cubetti e ci sono un sacco di manovre fighe da fare. Proviamo subito! Siamo Octavio Armstrong! Tecnicamente ci definiscono come umani questi robotoni, ma a me sembra di essere un robot. Quindi, inoltriamoci in questa epica arena e queste epiche battaglie contro degli avversari robot! Abbiamo seccato con un colpo solo! Notate come sia fighissimo eliminare questi tizi e poi poterli smembrare in questa maniera senza il corrispetto! Ecco cosa penso di voi, stupidi robot! Molto, molto interessante il fatto che dopo ogni battaglia possiamo comprare un upgrade da questo albero delle abilità. Ok, un altro duello! Anzi, che duello! Sono tre contro uno! Maledetti! Oh, che è andato giù un altro! Che dove giù? Oh, mio! Dio la proagine! Ah, ah, questo mi è quasi inchiappettato! Oh, yes! Un'altra vittoria per il potente essere umano! Nessuno può fermare e passo in mezzo alle seghe rotanti come se fossero noccioline! Oh, oddio! Ci sono un sacco di fottuti arcieri! Ora come me la cavo contro gli arcieri? Ho fatto uno slalom della Madonna! Ok, ok, slalom della Madonna! Slalom della Madonna in corso! Oh, 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 oh! Tu non mi fotti! Ok! Oh, mio Dio! Come ho fatto a non prenderti? Oh, magari ancora due! Tu non c'hai la gambina! Perché sei ancora in piedi? Starto! Ok, ok, ti ho preso, ti ho preso, ti ho preso! Tutto tranquillo, tutto tranquillo, espi! Voi! Oh, la mossa finale! Il camp della vita! E mutiliamo il suo cadavere perché abbiamo rispetto per i suoi resti! Uh, voglio assolutamente provare il calcio ora! Oh, mio Dio, una figata! Posso calciare questi ciccetti in giro! Oh, 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 non fare cazzo! Uh, tu sei a terra! Uh, mutilato! Non c'è posto per te! Piccola bestia! Oh, yes! Il calcio la vita! Oh, ti mancano le tue gambine! Oh, oh, mio Dio! Mi hanno praticamente fatto il pelo con quella freccia! E ora come faccio? Oh, Cristo Santo! Devo scalare tutta questa fottuta roba! Per uscire a prendere qui i fottuti arcieri! Via! Oh, no! Mi ha preso! Mi ha fatto un airshot! Della madonna! Ok, ho rifatto tutto quanto! E stavolta ho preso l'arco! Oh, yes! Voglio shottarli tutti con la mia incredibile potenza d'arciere! Uh, due già shottati! Due già shottati! Vai giù! No, fuck! Perché devi saltare così? Perché devi essere così pro? Ah, ah, ah! Frecce, frecce, frecce pericolose, pericolose frecce! Dai, dai, dai! Vai giù, vai giù, vai giù! Oh, yes! L'arco sembra essere veramente, veramente un'arma forte! E sono riuscito a superare questa, questa arena! Wow! Sono troppo orgogliosa! Sono affatto da mente orgoglioso! E ora voglio continuare a potenziare l'amibilità con l'arco, perché a quanto pare sono tagliato per essere un vero Legolas robotico! Oh, oh mio Dio, cos'è questa cosa? Un ragnone gigante alla morte! No, no, niente granate, niente granate! Shot il ragnone, shot il ragnone, shot il ragnone, shot il ragnone! Oh, yes! È andato giù, è andato giù! Che bello, che bello! Non, non, non ammazzarmi, non ammazzarmi, cerco ucciditi da solo, uccidi da solo, piccolo bastardo! Bastardo, muori! Oh, yes! È esploso, dove è andato l'ultimo colpo? Oh, oh, attenzione, attenzione! Oh, yes! Tutti i miei ciccetti, tutti i miei! Andrete giù come mosche, perché sono il migliore cello di sempre! Oh, yes! Ultimo! E anche questa arena è vinta, contro il primo boss! Oh, bastardo! Che schifo che fai! Salta! Sei coraggio! Oh, yes! Oh, no, oh no! Questi sono più forti, questi sono... Ma, porca! Sono veloci! Sono fottutamente, incredibilmente veloci! Venite qua! Oh, oh, posso usare le lame rotanti o mi vantaggio? Oh, cosa sto scalando? Morite! 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 Dai, dai, lame! Lame rotanti! Preso! Hai una zampetta sola! Bitch! Incredibile! Beccatevi questo, piccole... Oh, mio Dio, mi si sta... Mi si sta glitchando il gioco, meglio, non contraddire la volontà divina di questi due commentatori! Oh, no, mi vogliono mettere contro due ragnoni giganteschi! Oh, pacco! Ok, provo a prendere un extra life! Penso che possa essere una buona idea! Cosa? Ok, quindi teoricamente se crepo, questo entrerà a far parte dell'arena al posto mio e riuscirò a proseguire la mia avventura senza ricominciare tutto da capo? Spero! Vai giù! Ho andato giù anche... Ma no! Ma sono arcieri migliorati questi! Smitragliano! Smitragliano sti bastardi! Ok, arcieri vai giù! Ma, dannazione! Il mio proprio problema sono questi arcieri, che sono decisamente, decisamente forti! Sono rapidi, sparano velocemente! E... Menchiappetta! Oh, ti ho preso la giugulare! Oh, yes! Ok, ok, battaglia fra arcieri, battaglia fra arcieri, l'unica cosa che è rimasta! È il colpo della vita! Oh, mio Dio l'ho preso, ma non l'ho ucciso! Oh, fuck, il duello, il duello, il duello, il duello finale! Eh, va quasi giù! Oh, lo sto prendendo così tante volte, così tanti hitmarker! È questa! Ah, me l'ha schivata, piccolo bastardo! Ok, ok, che ce la possiamo farci, la possiamo fare! Vieni qua, piccolo! Oh, no, 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 gli ho sfiorato la barbetta, gli ho fatto la barbetta, muori! Quante volte ti devo colpire prima di ammazzarti? Fermo! Oh, yes! E vai giù! Bestia! Eh, eh, eh! Oh, espista trionfando! Sta macinando livello su livello! In questo Clone Drone Danger Zone! Oh, come è? Sembra una filastrocchia! Ho deciso di andare full archer, quindi totalmente arciere, e accumulare un sacco di cloni lì in fondo. Non voglio nemmeno toccare la spada, è fortemente pericoloso avvicinarsi a queste cose, sono troppo più... Oh, fuck! Oh, fuck, hanno le frecce larghissime, anche io devo... giusto per migliorare le frecce! No, siete troppo veloci! Mi stanno mettendo all'angolo! No, due contro uno non vale! Oh, ti ho beccato nemmeno una volta! Oh, no, sono troppo vicino! Sono troppo vicino, sono minchiappetti, minchiappetti alla grande! Rimane, rimane il duello! Con la raccene più pro di sempre! Oh, fuck, 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 fuck! Sono veramente tosti, sono veramente veramente tosti! Yes, preso! Oh, mio Dio, l'ho provata! Oh, piccolo bastardo, ti piace la mia freccia in bocca? Ti piace? E' stato un parto! E' stato un fottuto parto! Devo prendere le frecce più grandi, anche perché hanno detto che ci saranno un sacco, un sacco di robot! Vediamo quanto sono grandi le mie frecce ora! Oh, yes, mi gusta mucho! Ora quanti ce ne saranno? Oh, porca! Prendili, freccia! Ah, non ha preso nessuno, complimenti, grazie, freccia! Va bene, va bene, è tutto gestibile, è tutto gestibile, è spi, ce la puoi fare! No, è veramente veramente stupenda questa cosa! In pratica il robottino con una zampetta sola ovviamente va più lento degli altri! Questo gioco è veramente veramente una figata! Oh, due con un colpo solo, due con un colpo solo! Oh, un nuovo record di Aspi! Oh, una viene calciato per terra e Aspi ne approfitta! E gli mutila la zampetta! Che tristezza! Che tristezza! Voglio vederti strisciare i miei piedi! Oh, che tristezza! Sei andato! Bye bye ciccetto! Oh, non posso, non posso ogni volta trattenermi dal mutilari alla fine, perché è una soddisfazione che mi piace togliermi! Oh, facco, ogni volta dicono che la battaglia prossima sarà fottutamente difficile! Ogni volta sono incredibilmente preoccupato! Mi chiedo se ci sia un boss finale da affrontare in questa cosa! Ok, ok, sarà bellissimo! Sarà bellissimo! Oh, che cacchio è sta roba! Cosa vuoi da me? Muori! Dannazione, è troppo rapido! Muori! Oh, oh, no, ha parato la mia freccia! Stai scherzando, me li riesce a buttare addirittura contro! No, 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 io non voglio affrontare con la spada! No, 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 non sono affatto pronta questa cosa! Se ti ridurrò a strisciare come un verme... Riuscirò! Oh, mio Dio! Ok, 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 con molta calma! Ok, devo affrontarlo con la spada! Oh, l'ho preso! L'ho preso! Con un colpo solo con la mia spada! Grazie, aiutami a scappare! Non ho capito molto di quello che mi ha detto ciccetta, ma andiamo! Io vado, io vado, io vado! Voglio scappare, voglio scappare, voglio scappare! Dai, fammi scappare ciccetta, fammi scappare! Whee! Oh, yes! Stiamo scappando da questa arena della tortura! No, no, no! No, queste cose non le voglio! Dove sono caduto? Dove sono caduto? Oh, no, oh, no, no! Che succede? Cosa? Ma che razza di... Cosa? Cosa sta succedendo di questo posto? Ma non era un'arena questa prima! Cosa sta succedendo? Cos'è questo gioco? Ok, grazie Ok, quindi a quanto pare il nostro obiettivo è quello di far scappare 5 umani E poi chissà cosa succederà in questo gioco Quindi spero che questa cosa vi sia piaciuta Non dimenticate di lasciare un bel mi piace qui sotto Arriviamo almeno a 600 per il prossimo episodio E ditemi con un commento se questa cosa veramente vi ha colpito A me ha colpito, a me ma parecchio intreppato Alla prossima, ciao ciao Ciao